Alla se non c'è traffico gli dai da piccola stirata e buonanotte a secchi, lo sai, è un modo di contesia, allagga se no ci vuole la stenzata dopo, allagga tutta a sinistra, ok bravo, bravo, libero, libero, vai tranquillo, vai tranquillo, se non è che luce sto data è libero, vai, vai, che ce la fai, vai, che ce la fai, vai, ok, perfetto Qua c'è il pallo si sente? Si, parla piano piano Ma la luce è quella qua? Ma che lampadine c'avevo visto? Quelle vocanti si? Eh, più così il mixer non li potevamo mettere a casa, non ci mette molto tante labbra a vedere qualche cosa a fare, tanto lo devi mandare a sto video dopo, lo sente la gente come è? Eh si E allora lo stai molto, le luciette o quelle del lumino? Quello della chiesa? Ah perché poi la gente sente? Eh certo A destra libero 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 Grazie a tutti. 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 Ciao.